Galle Limos Galle Limos stiamo realizzando una piattaforma commerciale nel nostro territorio. Questa piattaforma consentirà ai produttori sia di avere vantaggi di costo e logistica fondamentalmente, ma anche di mettere assieme delle esperienze comuni, in modo che anche i più piccoli produttori possano avere la possibilità di conoscere dei suggerimenti in relazione alla gestione del canale. Un'altra opportunità che stiamo creando è la realizzazione di un magazzino a Milano, il che ci consentirà, per esempio, tra le altre cose, di metterci alla pari con i produttori che già lì operano. Questo fatto ci consente di avere dei vantaggi di costo, ancora una volta, per la logistica. Lavoriamo anche alla riduzione degli intermediari commerciali, perché da Milano partiremo per realizzare anche due punti vendita, uno nel nord Italia e un altro in Germania. Grazie a tutti.